Il ragazzo non ha mai manifestato, da noi gioca da 4 anni circa, non ha mai manifestato nessun indicatore di violenza o discriminatorio nei confronti di nessun compagno di squadra. Noi abbiamo avuto dei ragazzi di colore e i ragazzi sono integrati magnificamente nel nostro gruppo. È proprio una pura fantasia. Ricordiamo che Riccardo oggi avrebbe voluto essere in campo con gli altri, con i suoi compagni. Oggi i giocatori scenderanno in campo con una maglietta particolare, cosa c'è scritto? No, il razzismo, perché abbiamo ripreso questo. Siccome è stato... Ecco, io gliela farei. A tutti buon divertimento. Ecco qua che faccio. Grazie a tutti.